Ed ora ci occupiamo con questo servizio di ricerca scientifica in campo medico-sanitario, una ricerca sull'autofagia condotta dall'IRCS Neuromed in collaborazione con l'Università di Pisa guadagna un riconoscimento a valenza internazionale. L'importante lavoro scientifico, fanno sapere i ricercatori, può aprire la strada a future indagini sulle cause alla base dei tumori cerebrali e della neurodegenerazione. Ancora una ricerca dell'IRCS Neuromed di Pozzilli, questa volta in collaborazione con l'Università di Pisa, guadagna un riconoscimento internazionale, questa volta in Francia. I dati dello studio presentati al congresso sotto forma di poster hanno riguardato l'autofagia, dal greco letteralmente divorare se stessi, uno dei più importanti meccanismi attraverso i quali le cellule si rinnovano ed eliminano componenti non più funzionanti. Il premio è stato attribuito da una commissione scientifica composta da ricercatori di rilievo internazionale. I risultati della ricerca derivano da un intenso lavoro coordinato da Francesco Fornai, professore ordinario di anatomia umana all'Università di Pisa e direttore dell'Unità di Neurobiologia dei Disturbi del Movimento presso il Neuromed. Nell'equipe scientifica la dottoressa Francesca Biagioni, della stessa unità Neuromed, la professoressa Paola Lenzi, la dottoressa Gloria Lazzari e la professoressa Alessandria Salvetti dell'Università di Pisa. Pensiamo, dice Fornai, che lo studio di questo complesso e sofisticato organulo coinvolto nell'omeostasi cellulare e in particolare nella eliminazione di componenti cellulari danneggiate e non più funzionanti, possa aprire la strada a future indagini sul suo ruolo nei meccanismi patogenetici alla base dei tumori cerebrali e della neurodegenerazione. Questo ultimo sviluppo scientifico rappresenta dunque l'ulteriore ed ennesima testimonianza del rilievo assoluto della ricerca scientifica condotta presso l'Istituto di ricerca Molisano Neuromed.